la moto si spende eccolo è caduto sia lui che la moto comunque io vi devo dire ragazzi che rispetto a prima girate molto più velocemente si si ha capito dove ha sbagliato ha capito che c'è il faro acceso ma non c'è però mi dispiace che non c'è il coso non c'è lo zoom comunque è più bella una moto così mauro dove c'è la trogna oggi che c'era ragionale sbaglio sbaglio sai ha capito tutti c'è il faro acceso e il faro che assorbe troppo dopo che mi toccava il gas mentre l'ultimo albero e poi l'ho segnato perché perché si lo dovasse è duro però ti fa fumo sta moto io mica ce l'avevo tutte queste energie attento ora si a girare a rigirare si bravo è 10 volte 11 che ci provi è arrivato bene però no no ritorna indietro è ce l'ha fatta ce l'ha fatta ragazzi una per una prima me sento da buio no 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 no